Mercoledì per la Gelbison c'era in calendario il turno infrasettimanale valido per la terz'ultima di andata, ma proprio alla vigilia della sfida in programma in Calabria sul campo del Roccella è arrivata la comunicazione del rinvio per i casi Covid accertati tra i calciatori calabresi. Pertanto per i rosso-bluci lentani, dopo il match rinviato con il Rotonda, sarà recuperato salve altre modifiche mercoledì 10 febbraio, ancora uno stop forzato per situazioni legate alla pandemia che fanno salire a due le partite da recuperare per Uliano e Soci. Una sosta che consente al tecnico dei cilentani Giuseppe Ferazzoli di poter preparare a meglio la sfida di domenica 7, quando i rosso-blu saranno ancora di scena sul campo amico del Morra, dove arriva il Dattilo, formazione siciliana, che è ferma da due settimane e anche nell'ultimo turno non ha giocato e deve recuperare tre partite. Gli isolani, finora ad eccezione di un pareggio, hanno ottenuto cinque vittorie da altrettante sconfitte e con 16 punti stazionano al centro della classifica. Il tecnico Chianetta predilige il 4-3-3 con Terranova, che è il bomber, con sette sigilli. E con lo sguardo proiettato alla gara con la formazione trapanese è l'esperto attaccante cosentino Mattia Gagliardi. Siamo una squadra costruita per stare in alto ed entrare nei play-off, poi tra marzo ed aprile, dice, potremo definire meglio senza tralesciare di puntare al bersaglio grosso. Non ci resta, conclude Gagliardi, che rispondere con i risultati sul campo a partire dalla sfida di domenica con il Dattilo.